Giovedì pomeriggio all'Acquedotto per la Lucchese che Baldini ha quasi al gran completo. Dosanto a Sartore, brasiliano finora non pervenuto, causa infortuni a disposizione. Bianconi fa passi da gigante e Calcani per aver smaltito la dolorosa botta alla caviglia. Mingazzini lavora a parte, seguito dal dottor Tambellini, ma dovrebbe recuperare. Ne consegue che il tecnico ha solo l'imbarazzo della scelta. Partitella in famiglia contro la Berretti per provare schemi e movimenti in vista del derby. Il secondo della serie di tre. Ci sarà poi la trasferta al Melani contro la Pistoiese. Alla luce del recupero e della classifica che si è venuta a creare, la sensazione diffusa è che tranne tre e quattro squadre il resto sia ampiamente alla portata e che quindi si possano cullare giustificate ambizioni. Ma quello verrà solo più avanti, ora al Pensiero e al Prato, due punti in saccoccia da un interlocutore pur sempre scomodo e poi è pur sempre un derby, una gara speciale per Jacopo Fanucchi. L'anno scorso ho passato un anno bello direi, quindi per me sarà sicuramente una partita un po' particolare, ma dopo cinque minuti l'emozione di giocare contro il Prato poi passerà sicuramente. Capitolo formazione. La lucchese del sabato sera contro il Siena è piaciuta, nonostante lo 0-0 e sappiamo che avrebbe meritato la vittoria. Ergo non si può escludere anzi che Baldini opti per la conferma dell'undici schierato contro la Robur. Del resto il nuovo assetto con Mori e De Specie centrali, a scionga a sinistra e non l'è riportato in mediana, è parso a conferire maggiore equilibrio a tutto il complesso. Ancora un paio di allenamenti, compresa la rifinitura di sabato a porte chiuse prima di sciogliere gli ultimi dubbi, ammesso che Baldini ne abbia davvero.